Allora, Saguruji, ok, allora, per tutti noi, come viviamo i nostri giorni, qual è il modo migliore di farlo? Dicelo con frasi chiare e semplici semplici. Fai questo e sarai almeno sulla via per essere beato, o felice, o consapevole, o vivere in modo bello, consapevole. Se solo osservi, se ognuno di noi fa un piccolo sforzo, ognuno prenda un po' di tempo per questo pezzo di vita, ok? Non per la tua famiglia, la tua carriera, qualcos'altro, qualcos'altro, solo per questo pezzo di vita. Dagli un po' di tempo perché questo è il pezzo di vita più importante nella tua vita, non è così? Sì o no? Anche se sei innamorato di qualcuno, comunque questo è il pezzo di vita più importante, non è così? Quindi presta un po' di attenzione a questo, come accade? Perché l'hai dato per scontato? Credimi, non starai qui per sempre. Ti benedico con una lunga vita, ma morirai un giorno. Sì o no? Quindi non darlo per scontato. Se ti svegli la mattina, domani, se ti svegli la mattina, no, non è il mio augurio, ma voglio che tu sappia, di tutte le persone che vanno a letto stasera, più di un milione di persone non si sveglieranno domattina. E domani, se tu e Dio ci svegliamo domattina, non è una cosa fantastica? Un milione di persone non si sono svegliate, ti sei svegliato, non è grandioso? Guarda semplicemente il soffitto e sorridi. Sei ancora sveglio? Sei ancora qui? E per molti, molti milioni di persone, qualcuno che è loro caro non si è svegliato. Quindi controlla quelle 5-6 persone intorno a te. Si sono svegliate tutte? Wow! È un giorno fantastico! Ti sei svegliato e tutti quelli che contano per te intorno a te si sono svegliati. Non è un giorno fantastico? Non lo pensi. Non sembri pensarla così. Perché il problema è solo questo. Vivi con un'idea che sei immortale. Quando dico sei immortale, non stai realmente pensando che sei immortale, ma non sei consapevole della tua mortalità. Se non sei consapevole della tua mortalità, da qualche parte pensi che sei immortale. Non è così? In quanti momenti al giorno sei consapevole che sei mortale? Se fossi consapevole, avresti tempo di rubare? Avresti tempo di litigare con qualcuno? Avresti tempo di fare qualche stupidaggine con la tua vita? Se sapessi, se fossi consapevole che sei immortale, non faresti nulla oltre a ciò che è assolutamente necessario per te e per ognuno intorno a te. Quest'unica cosa, se la fai, se solo ti ricordi, non pensare che sia una cosa negativa. La morte non è una cosa negativa. È l'unica cosa che ha aggiunto valore alla tua vita. Se fossi qui per sempre, saresti insopportabile. Non siamo lieti che tutti muoiano un giorno? Se solo diventi consapevole di questa cosa, se sei sempre consapevole che sono mortale, non devi pensare morirò oggi. Non intendiamo questo. Vogliamo vivere più a lungo possibile. Solo che tu sappi, un giorno morirò. Se solo sei consapevole di quest'unica cosa, diventerai naturalmente spirituale. Ogni giorno, ogni momento, se ti ricordi, questa è una vita breve, sono mortale, un giorno finirò. Fai solo questo per due giorni e vedi. Diventerai qualcosa di davvero fantastico dentro di te. Solo questo è tutto. È tutto quello che serve. Se vuoi conoscere il valore della vita, sappi semplicemente che è un breve accadimento. Grazie a tutti.